Liu Kang Dopo aver sconfitto Shao Kahn, Liu Kang ritenne di essere l'unico in grado di difendere la Terra dalle minacce esterne. Durante l'invasione Raiden era stato più un peso che un aiuto. Chiese così, spudoratamente agli dei anziani, di nominarlo Dio del Fulmine. In una singola sfida nel Mortal Kombat, Liu Kang sconfisse il vecchio amico e il mentore. La richiesta di Liu Kang fu accolta e divenne in Dio, il nuovo protettore della Terra.